A Lucera c'è un clima di fermento e di proposte per fare in modo che il titolo di capitale della cultura 2026 venga assegnato alla città federiciana. Tante nuove sono le iniziative a partire da un vero e proprio piano di valorizzazione del patrimonio della città presentato dall'associazione Lucera Non Tace, un piano organico di interventi concreti da realizzare nel meglio e lungo termine per valorizzare il patrimonio culturale locale e rendere Lucera più attrezzata ad attrarre flussi turistici. Il piano si pone l'obiettivo di fare diventare Lucera con i comuni limitrofi dei Monti Dauni una città storica che affonda le radici nel suo illustre passato testimoniato da monumenti di rilevanza nazionale. Per rendere la città appetibile in ottica turistica è necessario valorizzare il suo patrimonio culturale. La riqualificazione urbana e la tutela del territorio e del suo paesaggio sono poi strettamente interconnessi e insieme contribuiscono a creare il volano necessario per lo sviluppo del turismo. Un progetto che ha bisogno, dice Francesco D'Angelo, presidente dell'associazione Lucera Non Tace, che deve essere accompagnato da iniziative parallele educative e di sensibilizzazione finalizzate a favorire una presa di coscienza collettiva per rafforzare il senso civico e il senso di appartenenza alla propria comunità che poi è il presupposto indispensabile per far nascere l'amore autentico dei cittadini verso il proprio territorio, la sua storia, i suoi monumenti, riconoscerli finalmente come veri e propri, quindi cooperare per la loro conservazione. Si chiude così il cerchio della rigenerazione socioculturale di un territorio ed il piano si articola su diverse direttrici di intervento, la riqualificazione urbana, quella del centro storico con il recupero del decoro del centro storico e la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale, la riqualificazione dei parchi e delle aree verdi, la riqualificazione delle periferie e la valorizzazione del patrimonio culturale che parte dalla tutela, messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio per giungere alla fruizione più ampia e diffusa e al coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini in un senso più ampio a partire dai più piccoli.